Dopo la zona rossa di Natale, anche la Toscana da questo lunedì torna in arancione fino al 30 dicembre per poi rientrare in zona rossa per Capodanno. I negozi riapriranno fino alle 21, i centri commerciali devono stare chiusi nei giorni festivi e prefestivi, le attività di ristorazione sono sospese, fatto salvo servizio a domicilio ed asporto fino alle 22, motivando il proprio spostamento per necessità legate a salute, lavoro o per ricongiungimenti, è possibile spostarsi uscendo dai confini comunali e regionali e tornare al proprio domicilio o residenza. Non è possibile spostarsi tra regioni se non con l'autocertificazione ed un motivo valido. È invece possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio comune, ma solo tra le 5 e le 22 quando scatta il coprifuoco. Restano validi gli spostamenti all'interno della propria regione per andare a visitare un parente o un amico o presso un'abitazione privata per una sola volta al giorno e al massimo in due, ad eccezione dei minori di 14 anni. È possibile anche spostarsi fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ma per una distanza non superiore a 30 chilometri, evitando i capoluoghi di provincia. Sono consentiti gli spostamenti nei comuni limitrofi per acquistare i prodotti necessari o per convenienza economica, per usufruire di attività e servizi alla persona come parrucchieri, estetisti, carrozzieri, per andare a trovare i figli presso l'altro genitore, per coltivare i terreni e per accudire gli animali in allevamento. È vietato andare nelle seconde case in un'altra regione. L'attività motoria e sportiva è consentita all'interno del proprio comune e all'aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono invece chiusi. Sono consentite le attività da parte di centri estetici ed esercizi di toilettatura degli animali, controllo faunistico ed attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.